La prima volta che ho visto le immagini di Vivo X80 Pro ho avuto qualche perplessità. Il blocco posteriore della fotocamera infatti mi sembrava un pochino invasivo, anche perché obiettivamente è molto più grande rispetto a quanto proposto dalla concorrenza. E invece ho cambiato idea, perché una volta in mano la sensazione è totalmente diversa. Ma vi racconto tutto dopo la sigla! Prima di iniziare farò una cosa che non faccio da un po' di tempo, ossia ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi su Instagram. E ne approfitto per segnalarvi che potete seguirci anche su TikTok, nella remotissima ipotesi che già non lo facciate. Ma torniamo a Vivo X80 Pro. Come dicevo prima, guardandolo in foto non ero convintissima di questo design. E invece dal Vivo, eh? L'avete capita? Vabbè. È cambiato tutto. Perché è cambiato tutto? Prima di tutto perché il blocco non sporge particolarmente e nell'uso quotidiano, tenendolo in mano, non ho mai il dito che finisce sul blocco della fotocamera posteriore o comunque sullo scalino. Insomma, non mi ha mai dato fastidio. Anzi, in realtà penso che doni un po' di personalità a questo telefono che quindi riesce a distinguersi facilmente dalla concorrenza. L'altra cosa che ho apprezzato è la finitura posteriore. La back cover è in vetro, opaca e al tatto è quasi setosa. Mi è davvero piaciuta parecchio. Tra l'altro abbiamo anche il vetro curvo ai lati che facilita la presa. So che non piace a tutti, però è una soluzione che io apprezzo molto, sia perché migliora il grip, sia perché mi dà quella sensazione di telefono premium. Poi siamo tutti d'accordo che non è il vetro curvo a rendere premium un telefono, però cosa volete che vi dica? A me fa un po' questo effetto. Vi segnalo che in confezione trovate anche questa cover che peraltro ha questa finitura che la fa sembrare in pelle. Come vedete non protegge totalmente il telefono, ma non ditelo a nessuno, rimarrà un segreto tra di noi, ho fatto un drop test involontario e lo smartphone non si è fatto assolutamente niente. Ciao amici di vivo, sta bene, non preoccupatevi. Parliamo del display. Abbiamo un E5 AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 3200x1440 pixel. Potete però decidere di usare una risoluzione minore andando nelle impostazioni e scegliendo 2400x1080 pixel. Anche la frequenza di aggiornamento può essere modificata. Di default avete la commutazione intelligente, quindi il refresh rate varia in base al contenuto, però potete decidere di tenerla fissa a 60Hz oppure fissa a 120Hz. Ovviamente la commutazione intelligente e i 120Hz aumentano il consumo di batteria rispetto ai 60Hz, però l'esperienza d'uso è più fluida. Tra l'altro io ho usato commutazione intelligente per la maggior parte del tempo e non ho avuto difficoltà a coprire l'intera giornata. La batteria da 4700 mAh infatti è ben ottimizzata e non vi lascia a piedi a tradimento. Quando poi esaurite l'energia potete contare sulla ricarica rapida a 80W, che in circa 30 minuti vi porta di nuovo al 100%, oppure sulla ricarica wireless a 50W. In quel caso ci mettete meno di un'oretta per caricare tutto vivo X80 Pro. Ma mi sono scordata di dirvi come si vede il display. È un AMOLED, quindi si comporta alla grande con colori vividi, neri profondi e un'ottima luminosità che rende il display perfettamente divisibile anche sotto la luce diretta del sole. A bordo troviamo il processore, qua il Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. Ci sta comunque tutto ciò di cui avete bisogno, perlomeno io non ho avuto problemi anche portando a casa un po' di foto in alta risoluzione, divido in 4K, oltre alle 150 applicazioni che ho normalmente sul telefono. Le prestazioni sono ottime, non ho visto rallentamenti, esitazione, nemmeno con giochi impegnativi come ad esempio il caro vecchio Call of Duty. Sul fronte connettività avete tutto il necessario, quindi 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, abbiamo anche il lettore di impronte sotto al display, funziona benissimo, lo sblocco con il volto che funziona sempre bene e non ve l'ho detto prima la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. E ovviamente abbiamo gli speaker, due, stereo e capaci di garantire una buona qualità del suono e di raggiungere un volume piuttosto elevato. Le uniche divergenze le ho avute con il software, almeno all'inizio, vi spiego perché. Non mi scaricava la posta su Spark e non sempre ricevevo le notifiche tempestivamente. Poi è arrivato un aggiornamento che sembra aver risolto il problema, anche perché ero piuttosto sicura che fosse tutto facilmente risolvibile visto che ho già avuto altri contatti con la Fantaccio S12 di vivo e mi ha sempre regalato grandi gioie. Personalmente la trovo completa, rapida e intuitiva. Veniamo però alla fotocamera anche perché qui abbiamo un sacco di sensori che occupano un sacco di spazio e quindi uno si aspetta grandi cose. Ed effettivamente è così, però andiamo con ordine. A bordo abbiamo una fotocamera principale da 50 megapixel, un'ultra grandangolare da 48 megapixel, una periscopica da 8 megapixel e una fotocamera per ritratti da 12 megapixel. Oltre alla frontale da 32 megapixel. Un sacco di megapixel. Ma non è tutto. Ci sono due cose importanti da segnalare. La prima è la partnership con Zeiss. E voi direte, ok, sulla carta. Ma nella vita vera cosa vuol dire? Prima di tutto che le lenti hanno il trattamento Zeiss T-Coating che migliora la trasmissione della luce e contribuisce a ridurre i riflessi. In secondo luogo abbiamo il sistema colore naturale Zeiss che è un'opzione del menu e che migliora la resa del colore e facilita il cambio di colore e di luminosità durante le riprese. Cambia qualcosa? Assolutamente sì, effettivamente il risultato è più naturale con l'intelligenza artificiale che non entra a gamba tesa. Quindi ad esempio il verde delle piante è più naturale e meno sparaflesciato. L'altro elemento che volevo segnalarvi è la presenza di Vivo V1 che è il chip di imaging di Vivo. Quindi in sostanza c'è un chip che si occupa solo della fotocamera e che permette all'intelligenza artificiale di lavorare meglio sia nella registrazione dei video che nella cattura delle foto. Ma come sono i risultati? Il sensore principale si comporta alla grande soprattutto con la modalità colore naturale Zeiss. Ogni tanto forse desatura un pochino troppo però la resa è comunque più naturale rispetto agli scatti in cui questa modalità è disattivata. Lì infatti notate subito che i colori sono un pochino più saturi. Nel complesso comunque i risultati sono davvero ottimi e sono ottime anche le macro così come gli scatti in modalità notturna. Non c'è disturbo, tiene bene i colori e anche la differenza tra le alte luci e le basse luci. Non c'è dispiaciuto nemmeno l'ultra grandangolare. Non distorce le foto, i colori rimangono naturali non so se ho già detto naturali in questo video e non perdiamo dettaglio. Ogni tanto in condizioni un po' estreme ci regala dell'aberrazione cromatica che non vorremmo vedere però nel complesso è super promosso. Anche lo zoom si comporta alla grande. Il 2x tiene benissimo i dettagli non sgrana e non succede quella cosa brutta per cui l'intelligenza artificiale spalma tutto. Anche il 5x è soddisfacente perdiamo forse qualcosina in termini di dettaglio comprensibilmente e forse accende un po' di più i colori però la resa è buona. Sul fronte video abbiamo 8k, 4k e full hd. Abbiamo apprezzato il 4k per la quantità di dettagli ma sappiate che il 4k supporta solo la stabilizzazione base praticamente. Se volete quella ultra dovete optare per il full hd a 60 fps dove perdiamo dei dettagli però in compenso guadagniamo stabilizzazione e fluidità. L'8k invece non è riuscito a convincerci. Ok a questo punto è ora di trarre delle conclusioni. Partiamo con il prezzo perché non ve l'ho ancora detto. Vivo X80 Pro è in vendita a 1299 euro. Il commento che ho sentito più spesso è stato ok ma Vivo non può permettersi ancora questi prezzi e per me è un ragionamento sbagliato. Indubbiamente Vivo è un brand giovane sul mercato italiano e ci ha abituati a smartphone di fascia media medio alta se pensiamo ad esempio all'X60 Pro e questo quindi è un bel salto. Ma non è un salto alla cieca. Prima di tutto lo smartphone costa 1299 euro perché vale quel prezzo. È un top di gamma fatto e finito con un comparto fotografico ottimo un buon display, un design che io ho apprezzato molto ma questo è soggettivo e lo capisco e prestazioni eccellenti. In secondo luogo Vivo è un brand giovane da noi in Italia ma non in generale. L'azienda ha anni di esperienza e in più fa parte di un gruppo che si chiama BBK Electronics che è il gruppo che include anche Oppo, OnePlus e Realme oltre a Vivo. Quindi per capirci due o tre cosine di smartphone le sanno. Tutto questo per dirvi, però ve l'ho già detto, che secondo me il prezzo è adeguato a quello che offre Vivo X80 Pro. Se avete dubbi, domande, perplessità e qualsiasi altra cosa lasciate un commento, sono pronta al confronto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!